Luigi Polucci, capo cannoniere della Serie B, auspettazione, calcio a 7. Quanti gol hai fatto Luigi? 51 gol. 51, il prossimo anno che facciamo? Il prossimo anno andremo in Serie A perché siamo arrivati anche terzi grazie ad un giro di ritorno fatto alla grande. E niente, colgo l'occasione per farvi i complimenti per tutto quello che organizzate perché sono ormai 8 anni che facciamo questo campionato e devo dire che andate sempre meglio. Sì, come i bomber cerchiamo di inventarci nuove soluzioni in fase d'attacco. Facciamo ancora i complimenti e in bocca al lupo per il campionato. Grazie mille, ciao.